Oggi ti porto a fare un giro su Wudan Timbur Coaster, la montagna russa in legno di Europa Park a Rust in Germania. Con i suoi 40 metri di altezza e i suoi 95 km orari di velocità, è la seconda montagna russa in legno più veloce e più alta della Germania e la terza in Europa. Il suo percorso si estende per 1050 metri e arriva fino al 52% di pendenza. L'imponente struttura di legno si trova nella zona dell'Islanda, tra il Blue Fire Mega Coaster e l'Atlantica Super Splash. Il tema dell'attrazione è la mitologia scandinava, infatti Wudan era l'antico nome del dio Dino. La coda, fortemente tematizzata come per le altre attrazioni di Europa Park, presenta la particolarità di avere un piccolo bar nel mezzo. Per gli amanti del BOV ricordo la possibilità di fare una coda separata per avere la prima fila, in modo da avere l'inquadratura migliore. Ma bando alle ciance e benvenuti a... RUSBUDAN! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.